Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. La finanziaria italiana, la prima vera finanziaria della Meloni dopo un anno di governo, era molto attesa dagli osservatori internazionali. Ed è per questo che oggi voglio aprire il ristretto italiano con il commento del Financial Times che titola «L'Italia annuncia 24 miliardi di euro di tagli fiscali e aumenti salariali per stimolare una crescita che ancora vacilla». Dopo avere premesso che la sua coalizione ha lavorato per mantenere le promesse della campagna elettorale, Giorgia Meloni, come riferisce il Financial Times, ha parlato di un bilancio molto serio, molto realistico, che concentra le proprie risorse su poche grandi priorità, prima delle quali è la difesa del potere d'acquisto delle famiglie. Il quotidiano finanziario londinese permette da parte sua, inoltre, che già ad aprile il governo italiano aveva annunciato che per l'anno prossimo avrebbe aumentato l'obiettivo di deficit al 4,3% del prodotto interno lordo contro il 3,7% fissato in precedenza e che sotto il 3% l'Italia non ci tornerà fino a fine 2026, annuncio che aveva, a dir poco, molto impenserito, le agenzie di rating che si dovranno pronunciare, tra l'altro, nel giro di poche settimane. Tornando alla manovra, comunque, 4 miliardi e 3 saranno utilizzati per ridurre il cuneo fiscale e mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori con reddito medio-basso. 7 miliardi saranno per gli aumenti salariali del settore pubblico, 2,5 dei quali per i dipendenti della sanità. Un miliardo riguarderà nuove iniziative per incoraggiare le donne a fare più figli. Tuttavia, commenta il Financial Times, gli analisti vedono rischi legati al conflitto in corso in Medio Oriente, rischi che non riguarderanno solo l'Italia, verrebbe da rispondere, e poi altri rischi che potranno riguardare una rotta di collisione con Bruxelles per i tempi più rilassati che l'Italia ha deciso di prendersi. Ma anche qui, con le elezioni alle porte, io non ci giurerei, a meno che l'Italia non diventi oggetto di campagna elettorale per altri paesi. Cambiando argomento, i venti di guerra, abbiamo fatto un riferimento un minuto, un secondo fa, i venti di guerra sono sempre più inquietanti per quanto sta accadendo sulle scenarie medio orientali e il timore del contagio si fa sempre più alto. Contagio per quanto riguarda i rapporti di forza tra le grandi potenze, vedi Israele e Stati Uniti, ma anche contagio per quanto può riguardare un possibile rigurgito del terrorismo islamico nelle nostre terre. Vedi l'aggressione dello scorso fine settimana a Parigi, vedi le paure del ministro Crosetto su possibili attentati sul nostro territorio. E' per questo che la nostra preoccupazione, ed è per questo che la nostra preoccupazione, sul fatto che attentatori filo Hamas possano giungere in Italia attraverso i barconi a eco anche fuori dai nostri confini, come in Costa Rica, dove il paese titola l'Italia teme l'ingresso di combattenti fra i migranti. In questo momento, e le parole riferite sono ancora una volta quelle del ministro della difesa, il rischio è che non ci sia sempre solo un'immigrazione dovuta alla povertà, ma anche da parte di gente che cerca di venire qui per farci del male. Una nuova esplosione del fondamentalismo è possibile anche perché quanto sta succedendo adesso a Gaza provoca necessariamente nuova emigrazione. C'è da dire che questo articolo del Paese, dal Costa Rica, è stato costruito sulla base di un altro servizio di Sputnik, che è la testata russa filo-putiniana. Concludiamo parlando di cibo? Dai, concludiamo, diciamo oggi un po' più rilassatamente. Ed è un articolo, quello che vi prendo, da Testing Table, rivista americana di cucina, che titola Arrivano i nove consigli di etichetta per mangiare la pasta in Italia. Perché non tutti i turisti che arrivano in Italia sanno come avvicinarsi a un piatto di pasta, siano spaghetti, maccheroni e tutto il resto. Il cibo in Italia, scrive Testing Table, è un'esperienza unica, ma qualsiasi turista americano o più genericamente straniero arrivi dovrebbe sapere che ci sono delle regole non scritte che non andrebbero dimenticati. Regola numero uno. Gli spaghetti non vanno tagliati nel piatto e non vanno arrotolati sul cucchiaio. Affondare forchetta e coltello nel piatto per sminuzzare gli spaghetti è una delle cose più orribili che si possano fare in un ristorante italiano. Se fossero stati più buoni corti, gli spaghetti li avrebbero concepiti corti fino dall'inizio, come le penne per dire. Per mangiare lo spaghetto, continua l'articolo, si affonda la sola forchetta nel piatto, si arrotola anche a caso e si mangia quello che ci è rimasto impigliato facendo attenzione a non sporcarsi di sugo. Secondo Mast, un piatto di pasta ben cucinato non affonda nel sugo, di quello ce n'è già a sufficienza per condirlo, altrimenti sarebbe una zuppa. e per non perdere ciò che comunque è rimasto sul fondo del piatto quando gli spaghetti sono stati tutti mangiati, un pezzo di pane, quella che in Italia chiamiamo la scarpetta, è consentito. Le prime volte vi stupirete, continua ancora l'articolo rivolto ai turisti americani, che il grado di cottura della pasta non è quello che vi aspettate. Gli italiani la mangiano d'urina, diciamo, al dente, dicono loro nel senso che non ti si scioglie in bocca ma devi usare i denti per mangiarla. Sarà subito un po' difficile farsela piacere ma poi, vedrete, non la abbandonerete più. Attenzione ancora al parmigiano, non va su tutte le paste, mai sulla pasta al pesce e metterne troppo comunque potrebbe alterare il sapore del piatto. Ancora, a differenza che nel resto del mondo, dove il piatto è uno solo, nel caso preceduto da un appetizer, in Italia la pasta apre comunque il pranzo e poi c'è dell'altro, quindi è la pasta che fa l'appetizer. Non chiedetela assieme alla carne perché non è un contorno, insomma, per capirci meglio. E nessuno vi porterà mai i maccheroni se prima avrete mangiato una bistecca. Ultimo ma non da ultimo il caffè. non va bevuto come una bibita calda, come l'acqua o il vino, ma solo alla fine del pranzo e va bevuto ristretto. Italiano fra parentesi. Potete chiederlo quante volte volete, ma troveranno mille scuse per non dovervelo portare prima che il tavolo sia stato liberato da tutto il resto. Anzi, fate una cosa, meglio consumarlo al bar dopo aver pagato il pranzo alla cassa, perché oggi in Italia si può alzarsi e andare a pagare ciò che avete mangiato alla cassa. Con questo vi saluto. Ho voluto concludere così con un po' di leggerezza visto le notizie totalmente pesanti della giornata. Vi aspetto domani, non mancate, alla solita ora che è quella che voi scegliete per ascoltare il ristretto italiano. Ristretto italiano di Ruggero Po